Proseguono le operazioni di contrasto al narcotraffico in Puglia, 6 arresti a Trani, 18 in tutto gli indagati. Processi più brevi e più giusti, a Bari il Vice Ministro Francesco Paolo Sisto interviene con i vertici della giurisdizione civile e amministrativa per parlare della riforma della giustizia. Tutto pronto per la Notte Europea dei ricercatori, evento organizzato dall'Istituto Tumori a Bari, un talk sulle politiche della salute con Alessandro Cecchi Paone e Ilaria Capua. Bentornati con l'informazione di Antena Sud, apriamo questa pagina dedicata alle notizie dalle province di Bari, Labatt e Foggia con la cronaca. Sei persone sono state arrestate questa mattina a Trani nell'ambito di un'attività investigativa contro la detenzione e lo spaccio di droga. Le indagini condotte dagli agenti della polizia di stato e condotte dalla locale procura e coordinate dalla locale procura hanno consentito di accertare l'esistenza di vaste piazze di spaccio in cui venivano smerciate per lo più cocaina e marioana. L'inchiesta aperta per detenzione e spaccio conta in totale 18 indagati. Blizza antidroga della polizia di Trani nella notte tra giovedì e venerdì. Se gli arresti della squadra investigativa del commissariato locale che ha lavorato in sinergia con il reparto prevenzione crimine Puglia Meridionale e Sicilia Occidentale con il coordinamento della procura della Repubblica di Trani. Due soggetti di 22 e 27 anni agli arresti domiciliari e quattro persone di 23, 29, 38 e 46 anni condotte presso il carcere di Trani su disposizione del GIP del Tribunale della BAT. Due degli arrestati hanno già precedenti penali per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. Quattro invece risultano incensurati. L'attività illecita riguardava la vendita di cocaina e marioana concordata attraverso conversazioni telefoniche in codice tra spacciatori e acquirenti con gli arrestati. Sono 18 le persone denunciate, nove di queste per il reato di favoreggiamento. Si tratta di un'indagine che si è concentrata nel periodo ottobre-dicembre 2022. Quindi abbiamo attraverso un'attività di controllo del territorio, quindi abbiamo svolto, abbiamo capito, quindi in merito ad alcuni movimenti sospetti di alcuni soggetti, quindi abbiamo fatto degli approfondimenti con dei pedinamenti, gli appostamenti e successivamente con coordinata dalla procura della Repubblica di Trani, quindi abbiamo avviato un'attività più complessa con delle intercettazioni telefoniche. e questo ci ha consentito di capire il contesto e come si muovevano questi soggetti e anche ovviamente di ottenere dei riscontri attraverso il sequestro di volta in volta di sostanza superficiente del tipo cocaina e marioana. Lo smercio di droga avveniva sia direttamente nelle abitazioni dei pusher, sia nel centro cittadino e in alcune aree della periferia. Un'attività intensa smantellata nelle scorse ore, ma il problema dello spaccio resta sotto osservazione in tutto il territorio dell'Abbat. E' più che altro nella zona del centro città, ma in alcuni casi anche in periferia, anche se ci sono delle situazioni riscontrate dove la droga viene ceduta all'interno dell'abitazione di qualcuno degli indagati. Ancora cronaca, aveva raggirato un'anziana di Bari facendole credere che la nipote si trovasse in una situazione di pericolo per la quale era necessario darle soldi e oggetti preziosi. Così, mentre uno dei complici intratteneva la donna al telefono, il truffatore si è fatto consegnare 400 euro in contanti e oro dal valore di 7 mila euro, comprese due fedi nuziali e una carta di credito con codici di sblocco con cui successivamente ha prelevato 1000 euro. I fatti in Viale Salandra, nel quartiere Picone di Bari, la mattina del 3 giugno scorso, le indagini sono partite dopo la denuncia della donna. Le investigazioni dei poliziotti della squadra mobile di Bari hanno permesso di identificare il responsabile, un uomo di origini campane e ora i domiciliari a Napoli. E' già arrestato per un altro colpo messo a segno con le stesse modalità pochi giorni dopo a Lecce. Gli inquirenti lo hanno rintracciato grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, non ancora identificati invece gli altri suoi complici. La tecnica adottata e ormai consolidata è sempre la stessa, scrivono gli inquirenti. I malviventi studiano in maniera approfondita la vittima, individuata sempre tra le persone più vulnerabili perché anziane o semplicemente sole. Riescono a recuperare informazioni di carattere personale come numero di cellulare, nome di un parente e poi simulando un finto incidente o soltanto la necessità di consegnare qualcosa ingannano la vittima facendosi dare anche ingenti somme di denaro. Ancora cronaca, ancora arresti, sono 13 in tutto, 15 denunce, poi sequestri di armi, droga e altro. Il bilancio di una vasta operazione della Polizia di Stato in diverse province del nord della Puglia, in particolare nei centri ad alta densità criminale di Cerignola, Andrea e Bitonto. 13 arresti, 15 denunce, sequestri di armi, droga e di un gemmer e il bilancio di una vasta operazione della Polizia di Stato in diverse province del nord della Puglia, in particolare nei centri ad alta densità criminale di Cerignola, Andrea e Bitonto, luoghi di spaccio e intimidazioni. L'operazione Alto Impatto ha coinvolto 400 agenti coordinati dal servizio centrale operativo della Direzione Centrale Anticrimine. Una nuova modalità di intervento sul territorio spiega la Polizia di Stato che si avvale delle tecniche investigative più avanzate. Nel corso delle operazioni sono state identificate oltre 11.000 persone, sequestrate armi e materiale tipicamente utilizzato per le rapine e furgoni portavalori, incluso un gemmer, un'attrezzatura utilizzata per violare le frequenze di strumenti di telecomunicazione in uso anche alle forze dell'ordine. A Cerignola l'operazione si è concentrata nel quartiere noto come Fortapascio per le attività di spaccio e ritenuto centro di pianificazione di molti assalti a furgoni portavalori in tutta Italia, sequestrati inoltre 9.000 pezzi di ricambio di autovetture di alta gamma destinati alla vendita sul territorio nazionale. Le contestazioni a carico degli indagati riguardano il possesso abusivo di armi e stupefacenti e la pianificazione e l'esecuzione di assalti a furgoni portavalori. Anche a Bari la festa della Polizia di Stato nel nome di San Michele. È arrivata direttamente da Roma la pattuglia ippomontata della squadra a cavallo per presenziare alle celebrazioni dedicate a San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato. Anche quest'anno la Santa Messa nella cattedrale di San Sabino a Bari ha la presenza delle massime autorità locali. A fare da padrone di casa il questore Giovanni Signer alla sua prima festa della Polizia barese. L'occasione servita anche per fare il punto sulle attività di controllo sul territorio durante la stagione estiva del capoluogo. Vi assicuro che il nostro sforzo è stato grandissimo e sono molte le volte in cui siamo riusciti ad assicurare i servizi alla presenza grazie al sacrificio personale degli appartenenti alla Polizia di Stato. I rinforzi che erano stati annunciati nei mesi scorsi da parte del Ministero dell'Interno sono arrivati e soprattutto sono serviti? Sì, sono serviti. Abbiamo rafforzato a Bari, abbiamo rafforzato le volanti. Questo ci ha consentito di essere molto più presenti durante l'estate. Un'attenzione particolare l'abbiamo avuto per Bitonto. Intanto sicuramente nel contesto della provincia è la realtà più problematica. D'accordato e anche Gravina ha avuto il suo rinforzo. Ci auguriamo adesso di continuare a fine anno. Ieri vi abbiamo raccontato la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel Foggiano in occasione della simulazione dei lagunari dell'esercito italiano. Vi proponiamo le immagini più belle dell'evento e le dichiarazioni più significative del Capo dello Stato. La Puglia costituisce sia dal punto di vista della forza militare che da quello industriale un elemento centrale per tutte le forze armate italiane e la presenza del Capo dello Stato lo ha sottolineato. La Pinerolo è senza dubbio la brigata dell'esercito italiano tecnologicamente più evoluta. Queste le parole del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, per esprimere l'orgoglio per l'eccellenza della brigata pugliese, protagonista dell'impolente esercitazione militare Leone a lato 23 sul lago di Varano. Per il primo cittadino di Cagnano Varano, Michele Di Pumpo, questo appuntamento ha rappresentato un'importante e imperdibile occasione di rivalutazione per l'intera laguna. Tutto la Puglia, sia dal punto di vista della forza armata, sia dal punto di vista industriale e dal punto di vista progettuale, costituisce quello che un tempo era il nord-est, il Friuli è la zona con maggiore presenza militare in Italia, sia nelle forze armate di terra, d'aria che di mare. Noi abbiamo porti militari importantissimi, Taranto e Brindisi, abbiamo tre aeroporti militari molto rilevanti, uno addestrativo di Galatina, Gioia del Colle e Amendola e soprattutto siamo la sede della brigata Pinerolo, che è la brigata dell'esercito italiano più moderna. Oggi l'importanza che ha avuto Cagnano a Laguna di Varano con la venuta del Presidente della Repubblica, del Ministro, del Capo di Stato Maggiore, fanno sì che questo luogo abbia inizio un processo di rivalutazione e di sviluppo, perché il nostro intento, la nostra voglia di recuperare, dare un indirizzo importante al luogo è proprio questo. Continuiamo con il nostro telegiornale partita, la ristrutturazione della caserma dei Carabinieri di San Ferdinando di Puglia e per i prossimi due mesi i cittadini, gli agenti cittadini resteranno operativi nella stazione della vicina Trinitapoli. Finalmente cominciati i lavori di ristrutturazione della caserma dei Carabinieri di San Ferdinando in piazza Carlo Alberto dalla Chiesa. Gli agenti della compagnia locale, temporaneamente trasferiti presso gli uffici di via dell'Azzaretto a Trinitapoli, potranno presto rientrare nel proprio distaccamento alla fine delle operazioni di manutenzione che interessano attualmente la struttura. Le attività di restyling permetteranno di rendere maggiormente funzionali, sicuri e decorosi i locali dell'attuale caserma. Circa due mesi per il completamento dei lavori, durante i quali resteranno attivi soltanto gli uffici di ricezione e denunce con l'ingresso da via Isonzo. Attesa in ogni caso per l'ormai agognato progetto della nuova caserma in via degli Ulivi, annunciata lo scorso anno e prevista nel 2030 attraverso i fondi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. I servizi di pattugliamento e assistenza ai residenti sono ugualmente attivi nonostante il temporaneo deficit logistico che vedrà partire gli agenti dalla stazione di Trinitapoli. Entro la fine di novembre è previsto il rientro dell'intera Compagnia dei Carabinieri presso la sede originaria di San Ferdinando. Cambiamo argomento, processi più brevi e più giusti si discute della riforma della giustizia anche a Bari con i vertici della giurisdizione civile e amministrativa insieme al Vice Ministro Francesco Paolo Sisto. L'occasione è l'incontro delle toghe in Camera di Commercio a Bari. La Camera Amministrativa Distrettuale degli Avvocati di Bari ha riunito nel capoluogo pugliese i vertici della giurisdizione civile e amministrativa, professori e avvocati specialisti in una o due giorni giuridica dal titolo giurisdizione plurale risorsa o problema con l'aspirazione di farne un evento da ripetere annualmente come laboratorio e osservatorio sui temi della giurisdizione in un confronto costante e dialettico. Il convegno è partito con una sessione dedicata alla Costituzione e alla giurisdizione con tutti gli attuali nodi e le prospettive di riforma. Presente anche il sottosegretario alla giustizia Francesco Paolo Sisto. C'è bisogno di provare ad evitare che il cittadino risponda per un fatto davanti a troppi giudici con una sorta di eternità della giurisdizione che non si concilia affatto con la necessità di un processo giusto. La Camera Amministrativa di Bari è riuscita a riunire nel capoluogo pugliese i vertici della giurisdizione ordinaria e amministrativa per un confronto sul futuro della giurisdizione. A mio avviso è un'occasione di approfondimento per rendere sempre più salda la collaborazione tra le due giurisdizioni che devono avere riguardo all'interesse primario della collettività e all'esigenza di fornire una risposta meditata e in tempi accettabili. Non sarà un risultato formale, ci sarà certamente la possibilità di trarre delle conclusioni che io mi auguro possano essere tradotte poi in spunti per il legislatore. E oggi ricorrono i cento anni della legge di contabilità generale dello Stato, un convegno dedicato nel capoluogo. Tenere i conti in ordine e in regola, soprattutto di questi tempi, è la principale priorità dei governi, ma il bilancio, la ragioneria generale dello Stato ed altri aspetti della pubblica amministrazione italiana sono tali grazie ad una legge di cento anni fa e che è ancora valida. Risale al 1923 la legge di contabilità dello Stato, una di quelle fondamentali del nostro paese, promossa col reggio decreto 2440. Al Palazzo del Consiglio regionale della Puglia si ricorda tutto questo. Sono veramente cento anni e devo dire, nonostante cento anni, la legge sembra non dimostrarli perché contiene una serie di principi scritti all'epoca ma che, devo dire, ancora oggi sono attuali. Uno su tutti, lo ricordo, la proficuità della spesa, cioè il fatto che la spesa deve essere utilizzata in modo efficiente, efficace e l'economicità anche della spesa. Quindi questo ancora oggi si discute, ancora oggi non riusciamo a farlo, però quello è un principio sancito già cento anni fa. Il futuro lo vedremo, soprattutto con il cambio della governanza europea. Quindi a fine anno vedremo quale sarà la decisione della Commissione europea e dopodiché dovremo effettivamente mettere mano alla legge di contabilità per adeguarla ai cambiamenti che l'Europa ci chiederà di fare. Presente inoltre uno stand espositivo che ha ricordato la storia legata alla legge nel corso del tempo e lavori avviati con tanto di esecuzione dell'Inno Nazionale di Mameli dal concerto della fanfara dell'Istituto Massari Galilei di Bari. È sempre a Bari l'incontro di presentazione della campagna di sensibilizzazione e promozione delle donazioni del sangue cordonale e delle cellule staminali. Incrementare le donazioni di cellule staminali emopoietiche in una regione dove è operativa una sola banca del sangue cordonale in Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo con una rete di raccolta presente negli ospedali di tutte le province. Si chiama Bimbo Dona Papà Dona, la campagna di sensibilizzazione delle associazioni Adoces e Adisco supportata da Anci Puglia che ha l'obiettivo di promuovere le donazioni di sangue cordonale. L'iniziativa si rivolge ai neopapà con meno di 36 anni che hanno scelto di donare insieme alla mamma il sangue cordonale del proprio bambino e rappresenta la risposta delle associazioni Adoces e Adisco alla grande urgenza di reclutare nuovi giovani volontari. Le cellule staminali sono delle cellule importantissime per effettuare tutte le procedure trapiantologiche cioè il trapianto di midollo, in realtà trapianto di cellule staminali per curare soprattutto malattie neoplastiche come soprattutto le leucemie, soprattutto acute, anche alcuni linfomi e alcuni mielomi ma soprattutto l'applicazione più importante nelle leucemie acute. Quello che vogliamo fare con questo primo avvio che mi piace dire è soltanto la prima pietra di un lungo percorso che sono sicura faremo insieme ad Adoces e Adisco vuole essere esattamente questo, portare un po' di informazione in più lì dove serve. Al via l'aparto analgesia nelle unità operative di ostetricia e ginecologia degli ospedali di Andrea, Barletta e Biceglie i dettagli sono stati illustrati negli uffici ASL della sesta provincia pugliese. Comincia dagli ospedali di Barletta, Andrea e Biceglie il progetto dell'aparto analgesia che approda ufficialmente nelle strutture della BAT grazie all'impegno dell'ASL provinciale un nuovo sistema di supporto alle nascite per le future mamme del territorio. Le nostre donne, le nostre future mamme insomma, potranno partorire con il parto in analgesia quindi potranno partorire senza dolore. Il parto analgesia come sapete comunque è previsto nell'ambito dei REA quindi dei livelli essenziali di assistenza quindi questo è il risultato di un lavoro abbastanza complesso che è stato posto in essere in questi mesi quindi sia diciamo di riorganizzazione ma anche di formazione dei nostri professionisti quindi degli anestesisti, delle ostetriche, dei ginecologi ma anche dei pediatri e questo ci consentirà di partire il 2 ottobre in totale sicurezza. Si passa alla fase attiva del travaglio quindi quando la donna è a termine si procederà con la nostra tecnica che prevede appunto l'inserimento di un ago, di un cateterino nella colonna vertebrale della donna la quale avvertirà comunque le contrazioni ma le contrazioni non sono dolorose questo permetterà chiaramente alla donna di collaborare molto meglio con l'ostetrica e soprattutto di avvertire meno dolore Il progetto partirà da lunedì 2 ottobre nei reparti di ostetrice e ginecologia il servizio sarà attivo 24 ore su 24 con la presenza delle equip specializzate nelle tre strutture ospedaliere della BAT A Foggia un convegno formativo organizzato dalla ASL in cui si è parlato di prevenzione e vaccini in occasione del nuovo piano vaccinale 2023-2025 I salotti della prevenzione vaccini e dintorni e il tema del corso formativo organizzato dall'ASL di Foggia è rivolto agli operatori sanitari impegnati nelle attività vaccinali con l'obiettivo di illustrare le novità del nuovo piano 2023-2025 di recente approvato dalla conferenza Stato-Regioni tre le sessioni previste per fare un focus sulla vaccinazione in età pediatrica, negli adolescenti e in età adulta tra gli aspetti particolarmente attenzionati il tema delle vaccinazioni nelle persone fragili nei soggetti difficilmente raggiungibili e non ultimo ovviamente l'aumento dei contagi da Covid-19 ci sono anche un rafforzamento di alcuni principi sacrosanti che come diceva lei riguarda la vaccinazione nei soggetti fragili che sempre più dobbiamo prestare attenzione a queste categorie abbiamo visto cosa è successo con il Covid di recente e anche altro target di vaccinazione primario è quello dei soggetti cosiddetti difficilmente raggiungibili quindi stiamo prontando e abbiamo già programmato la campagna vaccinale sia anti-influenzale perché non ci dimentichiamo che anche l'influenza non è che impatta poco e può dare anche casi complicati e qualche volta anche casi mortali in questi ultimi tre anni ci è andata bene perché con le protezioni che abbiamo adoperato per il Covid mascherine, distanziamento e quant'altro anche l'influenza è stata contenuta però c'è da pensare che ci possa essere una ripresa secondo diciamo le percentuali degli anni scorsi e quindi abbiamo già programmato insieme ai medici di medicina generale i pediatri a tutte le componenti sanitarie interessate sia la campagna anti-influenzale che quella anti-Covid partirà in ottobre quindi siamo prossimi alla partenza La giornata europea di ricerca e innovazione ancora una volta Bari è protagonista dalle 11 alle 23 di oggi il Politecnico di Bari ospita 46 stand espositivi e lavoratori sui più svariati temi legati a natura e scienza Rappresentare e valorizzare i risultati delle ricerche condotte nei laboratori baresi il loro impatto per lo sviluppo e la sostenibilità del nostro territorio e come disposta ad innovazione le sfide sociali ed economiche del nostro paese questo è lo scopo della Notte Europea del Ricercatore manifestazione promossa dall'Unione Europea sin dal 2005 e che vede protagonista nel capoluogo pugliese il Politecnico di Bari che a sua volta può contare sul sostegno e sulla partecipazione dell'Università di Bari Aldomoro della LUM, del CNR dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare dell'Istituto Tumori Giovanni Polo II e del Comune di Bari non mancano stand espositivi e dimostrativi ben 46 nonché laboratori interattivi talk e dibattiti abbiamo tematiche che spaziano veramente su tutti i campi abbiamo moltissime tematiche per quanto riguarda le scienze della fisica della fisica della terra la ricerca fondamentale la ricerca in astrofisica poi abbiamo temi di ingegneria di tutte le varie branche dell'architettura abbiamo moltissimi banchetti di stand di medicina di approfondimenti di biologia di ricerca per esempio quelle curate dal CNR abbiamo la LUM abbiamo ricerca in giurisprudenza abbiamo veramente tutte le branche del sapere la ricerca non deve avere confini né contrasti quindi si lavora un po' tutti assieme per affrontare quelle che oggi sono le sfide sfide complesse che come tale richiedono sinergia e soprattutto trasversalità quindi contaminazione di sapere quindi oggi è un momento importante in cui raccontarsi con parole povere lasciando che anche l'uomo della strada il cittadino possa comprendere quello che la ricerca riesce a generare in termini di impatti Appuntamento al Politecnico di Bari sino alle ore 23 del 29 settembre Sempre nell'ambito della Notte dei Ricercatori questa sera a partire dalle 19 nel Teatro Cursa al Santa Lucia di Bari il talk moderato da Cechi Paone con l'elezione magistralis di Ilaria Capua andiamo avanti andiamo a Barletta Barletta capitale del canottaggio inaugurati sul lungomare Pietro Mennea i campionati mondiali 2023 45 nazioni in rappresentanza di 4 continenti 900 atleti partecipanti migliaia di presenze stimate e decine di strutture ricettive coinvolte in tutto il territorio della sesta provincia pugliese questi numeri da record nel mondiale di Costa Rowing Beach Sprint 2023 che si terrà lungo la litorania Pietro Mennea di Barletta la cerimonia di presentazione alla presenza delle autorità locali e del capo del Dipartimento per lo Sport alla presidenza del Consiglio dei Ministri Flavio Siniscalchi non soltanto per incentivare la pratica sportiva a tutti i livelli quindi dai più giovani fino alle persone più anziane sia le persone con disabilità ma anche e soprattutto per valorizzare dei territori e quindi in questo caso questa manifestazione che raccoglie 45 paesi del mondo servirà anche a questa finalità quindi a valorizzare un territorio a incentivare l'economia e sostanzialmente a produrre ricchezza il campionato si svolgerà in due momenti distinti dal 29 settembre fino al 1 ottobre si terranno le gare di Beach Sprint una specialità del Costa Rowing che unisce la corsa sulla sabbia e la regata in slalom dal 6 all'8 ottobre si terranno le gare del Costa Rowing o canottaggio costiero che si svolgono su lunghe distanze da 4 a 6 mila metri è bellissimo essere al Barletta fantastico posto bellissima spiaggia fantastica organizzazione domani cominciamo ci aspettiamo delle fantastiche gare si comincia con i time trials delle prove a tempo in cui si corre prima sulla spiaggia poi si salta in barca si rema si fa un giro di boa si torna indietro e ogni equipaggio ci sarà una partenza ogni minuto di tanti diversi equipaggi da qui a poco probabilmente World Rowing deciderà se passare questa disciplina come olimpica ma ci sono tutti i presupposti per farlo perciò questa di questi giorni è una vetrina importantissima sta per partire una nuova stagione di spettacoli teatrali all'Anche Cinema di Bari si parte il 10 ottobre 16 appuntamenti più qualche ulteriore novità fuori programma la stagione 2023-2024 dell'Anche Cinema Bari è ricca di novità si parte dall'11 ottobre con i dialoghi della vagina e si conclude il 13 aprile con la Pink Floyd Full Immersion gusti e tipologie di pubblico differenti sono pronte ad intrecciarsi una stagione di prosa di teatro e di danza che si contamina nelle forme espressive nella trasversalità dei generi di un cartellone importante che da sempre caratterizza il coraggio di Andrea Costantino che con tutti e tutti i suoi collaboratori ha favorito nei confronti di una città che ospita un teatro ai confini su una ferrovia il coraggio di Andrea Costantino io lo devo lo devo di Costantino lo devo lo devo lo devo lodare tra i fuori programma c'è anche lo spundrone la baresità al centro il 4 novembre prossimo è uno spettacolo comico di sketch fatti con dialetto barese e lingua però trattano degli argomenti moderni quindi un'evoluzione del teatro popolare del teatro dialettale io approfitto per ringraziare l'Anche Cinema perché è una bella opportunità per una compagnia esibirsi qui con questo spettacolo che sicuramente farà molto ridere ma spundrone perché? perché lo spundrone è una cosa puntita che va a perforare e va a pungere quindi c'è anche una bella satira la società al costume e siamo contenti di portarlo qui chiudiamo con una breve di cronaca sono una dozzina tra arrivi e partenze e i voli cancellati all'aeroporto di Bari in seguito allo sciopero nazionale di 4 ore dalle 13 alle 17 proclamato dai sindacati dei trasporti da aeroporti di Puglia fanno sapere che malgrado allo sciopero non sono stati registrati particolari disagi per i passeggeri che erano comunque stati avvertiti per tempo dalle compagnie aeree della cancellazione dei voli con questa notizia chiudiamo anche la nostra pagina dalle province di Bari Labatta e Foggia allinea i colleghi da Brindisi, Taranto e Lecce per continuare con le notizie del territorio grazie per l'attenzione e un buon proseguimento Rimani connesso scarica gratuitamente dagli store o tramite QR code la nuova app di Antenna Sud più veloce e con più funzioni per essere aggiornato in tempo reale sulle news di Puglia e Basilicata seguire in streaming i nostri programmi o rivederli on demand da qualsiasi dispositivo di Puglia e Basilicata